Ben trovati al consueto appuntamento settimanale con il meteo e con le previsioni a cura del meteorologo Giuseppe Stabile di Meteo7.it. Giuseppe, prima di entrare nel dettaglio delle previsioni meteo per questo fine settimana, vogliamo informare i telespettatori sulla situazione attuale del tempo? L'alta pressione africana che nelle ultime 48 ore ha interessato la nostra regione ormai si è ritirata sul Mediterraneo orientale consentendo il passaggio di una moderata perturbazione, la quale nelle prossime ore interesserà marginalmente la nostra regione. Perturbazione che sarà seguita tra correnti fresche da nord-ovest che causeranno una sensibile diminuzione delle temperature, con valori che entro le prossime 24 ore si riporteranno in linea con la meteo del periodo. Solo per citare qualche dato, nella giornata di giovedì 25 aprile le temperature massime su molte località della nostra regione hanno superato i 30 gradi centigriti, con picchi fino a 33 gradi nel Beneventano. Andando più nel dettaglio, come sarà il tempo previsto per questo fine settimana, sabato 27 e domenica 28 aprile. Per domani, sabato 27 aprile, avremo cielo irregolarmente nuvoloso, con maggiori addensamenti lungo la dorsale appenninica, dove potrebbe verificarsi qualche residuo piovasco. La nuvolosità tenderà a dissolversi ovunque nel corso della serata. Temperature insensibili e diminuzione, fino a 10-12 gradi centigriti in meno rispetto ai valori attuali. Venti moderati da ovest-nord-ovest e mare mosso, localmente molto mosso. Per domenica 28, condizioni di cielo poco nuvoloso ovunque, contemporanei annuvolamenti, che non dovrebbero tuttavia essere associati a precipitazioni. Temperature in ulteriore diminuzione, con valori che si porteranno lievemente al di sotto della media del periodo. Venti moderati occidentali e mare mosso. E sulla tendenza della prossima settimana, come si svilupperà la situazione? Nei primi giorni della prossima settimana, la nostra penisola sarà esposta ad un flusso di correnti settentrionali, che, oltre a mantenere le temperature al di sotto della media stagionale, determinerà condizioni di tempo moderatamente instabile, con occasioni di qualche debole precipitazione. Nei primi giorni della prossima settimana, la nostra regione sarà esposta ad un flusso di correnti settentrionali, che, oltre a mantenere le temperature al di sotto della media stagionale, determinerà condizioni di tempo moderatamente instabile, con occasione di qualche debole precipitazione. Per la festa del primo maggio, la prognosi è incerta, pertanto invito i telespettatori a riaggiornarsi, consultando i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteosette.it